Vivi in modo indipendente, in sicurezza e con serenità, nel nuovo centro abitativo e di cura Terziano Uncornaredo. Per te appartamenti di due e mezzo e tre e mezzo locali. La migliore soluzione abitativa per la terza e quarta età, con servizi alla cart e sistema di allarme 24 ore. Terziano Uncornaredo, la tua nuova casa.